Cari cittadini, proprio ieri abbiamo saputo di essere come Grosseto tra le prime dieci città finaliste di Capitale della Cultura 2024. Quindi la nostra storia, il nostro passato, ciò che oggi ci definisce, ci rende veramente orgogliosi di essere mare in mani. Ecco perché uno degli obiettivi che ci prefiggiamo come amministrazione è quindi la tutela e la valorizzazione del nostro immenso patrimonio tradizionale, storico, culturale. È proprio in questa direzione che stiamo lavorando per rendere ancora più brillante la nostra frazione di Montepescali, ad esempio, il nostro gioiello medievale. La Giunta di oggi ha approvato la proposta progettuale Montepescali, rigenerazione culturale, sociale ed economica attraverso il turismo, che coinvolge numerosi partner sul territorio, ma anche associazioni della frazione stessa. Il documento, che prevede un connubio di azioni finalizzate alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione monumentale e allo sviluppo turistico della zona, ci permetterà di partecipare al bando che la Regione Toscana ha finanziato con i fondi legati al PNRR. La Regione Toscana individuerà quindi un progetto pilota che sarà finanziato dal Ministero della Cultura per il recupero del patrimonio, il patrimonio architettonico, culturale e ambientale e per il rafforzamento delle identità dei borghi italiani. Per la Toscana, come Grosseto, abbiamo deciso di proporre Montepescali, che rientra alla perfezione in questo progetto per un numero di abitanti congruo e per la sua forte identità storica che tuttora permea il borgo. Il progetto, che ha un valore di circa 1,7-8 milioni di euro, prevede interventi strutturali di recupero del patrimonio storico per migliorare la fruibilità turistica, come ad esempio la riqualificazione di Porta Nuova e di una parte della cinta muraria, con interventi che puntano a dare nuova accessibilità al manufatto, così come il restauro conservativo e ricostruttivo delle fonti e dei lavatoi, altri elementi che sono caratteristici del patrimonio identitario storico del borgo stesso. A questi interventi più strutturali si aggiungono altre azioni per lo sviluppo turistico, sostenuti dalla creazione di una infrastruttura tecnologica adeguata. L'idea è proprio quella di sfruttare gli immobili non utilizzati per creare un albergo diffuso, con stanze dislocate nei punti più suggestivi che permetteranno ai turisti di conoscere in prima persona la cultura e le tradizioni di Montepescali. A queste attività se ne affiancheranno o se ne affiancherebbero anche altre che puntano a sostenere la necessità dei residenti per favorire processi di rigenerazione urbana, come ad esempio la creazione di servizi in cooperazione, creando un'opportunità di servizi, risorse e spazi condivisi, così come l'attivazione, grazie al partnership con il terzo settore, di un progetto di cosiddette portinerie sociali con spazi fisici e virtuali di ascolto e supporto ai cittadini, così da cementificare le relazioni e i legami sociali tra i residenti. Ma non è finita qui, sono previste attività di animazione culturale ed economica, mini festival della letteratura, iniziative con il supporto del Polo Universitario Grossetano e con la collaborazione dell'Università di Siena e la promozione di percorsi che sono legati al cicloturismo e al trekking che qui trovano terreno fertile grazie al ricchissimo patrimonio naturalistico in cui è incastonato il borgo. Insomma, la nostra è una proposta completa e innovativa che vuole far conoscere a tutta l'Italia la nostra splendida Monte Pescale. Devo dare un sentitore ringraziamento per questo progetto al mio assessore al turismo Riccardo Megale e al mio assessore ai lavori pubblici Riccardo Cinanneschi che sono insieme a me al primo posto nel seguire questo progetto per sviluppare una frazione importantissima del nostro territorio verso Grosseto a top level a livello italiano.